ok siamo arrivati al check point bravo non è l'originale e lo so sempre perché presi la guida eccoli qui nel dopo la seconda guerra mondiale e c'erano formati parecchi cararmati americani e russi e stava per scoppiare la terza guerra mondiale quindi vedeva la russia degli americani questo qua è il check point come ho detto non è l'originale e anche questa qui è fatta l'altra volta quando sono venuto sono andato dentro a quel museo lì ti fa vedere proprio in 3d come era il muro è molto bello da vedere se ci venite fateci un giro che è molto bello e anche questa è una bella storia da sapere comunque ciao ragazzi il mio viaggio continua vi faccio vedere un altro pezzettino di cartellone che forse mi può piacere qui saremo in russia adesso vedete qui c'è il petto del muro che si trova in giro per la città vedi questo qui era il petto del muro di berlino poi va di là a basso l'istra e prosegue vedete qui e questo qua era il muro di berlino quando la gente si abbracciava e questo qua è un po' qui c'è ancora un pezzo di muro di berlino vedete lì dentro veniva fatto quel cerchio sopra perché era più difficile scavalcare e loro lo fecero i russi così la gente non riusciva a scavalcare il muro un pezzo di muro che hanno messo qui vedete il muro che hanno messo qui ecco ora vedete com'era berlino Berlino-Est e Berlino-Ovest. Qui quando i tedeschi stavano costruendo il muro... Vabbè, la mia piccola storia ve l'ho detto. Ciao ragazzi!